eccoci amici buongiorno a tutti e questo è il video sul su una domanda che mi è stata fatta frequentemente ovviamente io preferisco rispondere con un video in maniera che così almeno lo dico una volta lo faccio vedere anche praticamente a tutti e quindi voi potete fare la stessa cosa quando vi fanno questa domanda gli potete far vedere questo video che trovate ovviamente nella nella lista dei video equa coin allora ho creato sul mio computer a casa il mio wallet quello di mia moglie quello dei figli quello che volete ok c'è la parola avete sul computer a casa non ce l'avete sul cellulare sul cellulare quindi andate sul cellulare digitate l'indirizzo del wallet generale e fate import ok quindi qua dovete fare un copia incolla o trascrivere i semini i semi seed che vi eravate salvati quando avete creato il wallet quindi fate le incollate qua e controllate che l'indirizzo sia esattamente quello perché perché basta vedete guardate uno spazio in più e già cambia l'indirizzo è un altro è un altro wallet questo ok quindi deve essere esattamente con quelle con quelle lettere con le lettere giuste attenzione mi raccomando non mandate i semini via email non metteteli su sistemi elettronici perché le email o sul computer chiunque può è abbastanza facile entrare sui computer e quindi la gente prendendo queste parole qua adesso voi vedete soltanto le ultime due ma sopra ci sono le altre perché ovviamente devo proteggere la mia il mio wallet quindi se vi prendono conoscono queste questi semi e possono ricreare un wallet e quindi scaricare trasferirsi i soldi e voi un giorno andate lì aprite e non ci sono più soldi dite come mai perché avevi registrato sul computer e qualcuno è entrato le email te le leggono forse potreste copiarvelo diciamo trasferirvelo con telegram dal computer al cellulare ma io vi consiglio di non registrare questi si da nessuna parte stamparveli come avevo consigliato all'inizio e scriverveli a mano piano 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 stando bene attenti e poi verificando che l'indirizzo sia esattamente questo quindi fate registra vi chiede un nome io questo era quello che volevo fare della radio che avevo fatto per la radio adesso lo richiamo radio quindi questa stessa operazione potete farla su diversi cellulari magari voi avete due cellulari la volete su tutte due potete tenerla sul computer a casa e sul cellulare che vi portate in giro potete cambiare il nome del wallet ma tanto l'indirizzo sempre quello e anche la password potete mettere anche una password diversa se volete adesso io metto la password ok e facciamo registro a questo punto apre questo wallet eccoli qua e quindi mi ritrovo lo stesso wallet che avevo dall'altro device quindi sull'altro browser qui lavora con il browser memorizzati delle informazioni sul browser e quindi mi ritrovo gli stessi euro che avevo gli stessa equa coin quindi adesso quando chiuderò ovviamente non salvate qua perché troppo facile quando chiuderò qui avrò adesso il mio wallet digitale della radio quindi basterà cliccare qua metto la mia password e mi ritrovo il mio wallet a posto quindi io di qui posso adesso fare un trasferimento da un'altra parte a qualcuno fare un pagamento e via dicendo possiamo anche vedete qua quando siamo sul cellulare questo è molto comodo perché si può scannerizzare questo codice che corrisponde se dobbiamo pagare qualcuno al nostro stesso indirizzo ok quindi è facile trasferire dei soldi ok quindi trasferisci ad esempio e qui potremmo trasferire degli equa coin oppure possiamo trasferire degli euro scriptura scritturali ok benissimo allora ci sentiamo alla prossima video un abbraccio a tutti